passiamo adesso al golpe della Guinea, in Guinea c'è stato un golpe velocemente qui non c'è c'è solo un problema Stefano, siamo già un'ora e dodici il tempo sta volando quest'oggi abbiamo quasi finito c'è stato il golpe il presidente Alfa Condé regolarmente eletto sebbene al terzo mandato su due possibili da Costituzione però votato eletto legalmente o meno era eletto lo stesso è stato stromesso e deposto, così come anche il Parlamento e la Costituzione è stata sospesa e il fatto che non si gridi al crimine perché è stata sospesa la Costituzione in Occidente è molto sospetto se non si capisce poi da dove arriva il golpe Mamadi Dubouillat che era il capo delle forze speciali dell'esercito della Guinea ricordami la capitale della Guinea come si chiama? Conadri 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 dove si è tenuto il golpe il personaggio Mamadi Dubouillat abbiamo già detto arriva dalle legioni straniera francese e quindi UE Unione Europea La grandeur ha spinto evidentemente qualche d'uno a appoggiare questo golpe non si muove da solo un ex legionario si è mosso perché aveva alle spalle qualcuno in questi giorni la popolazione della Guinea ha fatto girare diventare virale un video in cui vengono mostrati coloro che erano al seguito della colonna di mezzi che di forze speciali che assieme a Dubouillat che le guidava in testa si recava al palazzo presidenziale per mettere agli arresti al Facondé al Facondé che poi è stato mostrato in quella foto spaparanzato sul divano e ha dato il via tra l'altro a una sfida sui social per ricreare la scena di lui sul divano così ecco e la storia si ripete una volta in tragedia la seconda volta in farsa no? E così è stato e così abbiamo visto quindi chi li stava a seguire c'erano dei bianchi armati con alcune bandiere esplicite americane però non erano soldati dall'equipaggiamento erano chiaramente e molto probabilmente mercenari di qualche società di contractors come vengono chiamati amorevolmente oggi una volta mercenari faceva molto belga ma si poi black water uccide un paio di persone cambia il nome esatto il congo sai quelle cose lì mercenari congolini sudafricani chiamiamoli contractors fa più fine moderno eccetera fatto sta che quindi abbiamo questo problema capire perché è stato fatto si può capire perché questo drone questo cosa c'è? è il microfono mio che ha fatto un disturbo il il golpe può avere un senso nel momento in cui andiamo a vedere che le miniere le risorse minerarie della guinea hanno come miglior cliente ci sono la russia ti lanciavo l'amo l'alluminio e bauxite vengono esportati principalmente in russia dove vengono poi lavorati raffinati e confezionati per la consegna al principale cliente della società che li lavora la cina e quindi può essere un golpe per controllare in maniera più diretta delle risorse delle risorse minerarie preziose per dei potenziali nemici in una guerra ricordiamo che nelle puntate precedenti abbiamo spiegato come la cina e la russia stessero riguadagnando velocemente posizioni in africa recentemente ho visto uno schema che rappresentava bene la situazione nel 2000 e nel 2020 dei paesi nel mondo che avevano come principale partner commerciale gli stati uniti nel 2020 e che per tre quarti erano passati ad avere come principale primo partner commerciale la cina l'influenza cinese nella nell'africa soprattutto dell'oceano indiano è enorme è enorme veramente si sta spostando attraverso il centro africa ricordiamo l'impiego dell'esercito nella repubblica centro africana chiamato dal governo per mettere fine ai combattimenti con i ribelli e anche i terroristi che ormai sono presenti dell'isis in diverse parti dell'Africa centrale come anche il Congo noi ne sappiamo qualcosa perché hanno ucciso il nostro ambasciatore e che quindi ci presentano una situazione che vede di nuovo la Francia e gli Stati Uniti muovere dei golpi contro dei paesi africani cui il presidente in un modo corretto o meno è stato eletto però democraticamente che era alfa conde rimane come hai detto poco fa quel discorso dell'uccisione del nostro ambasciatore noi abbiamo velocemente messo sotto il tappeto l'intera storia nessuna domanda nessuna indagine non ho più trovato notizie non ho più trovato notizie nei telegiornali come facesse comodo a qualcuno non ho mai più sentito parlare zero come anche del mister Biot ti ricordi Walter Biot l'uomo che vende i segreti italiani ai russi eccetera eccetera è caduta nel dimenticatore non serviva più parlarne all'epoca serviva perché iniziavano le sperimentazioni di Sputnik che tra l'altro si sono concluse al nostro centro quello romano si chiama non mi ricordo più Spallanzani bravo tra lo Spallanzani e San Marino era stata fatta una sperimentazione sullo Sputnik che ha dato tra l'altro ottimi risultati perfettamente in linea con quelli di tutti gli altri vaccini dalle polemiche che sto leggendo vogliono obbligare i sanmarinesi a vaccinarsi altrimenti con i nuovi vaccini sperimentali perché altrimenti non potranno uscire da San Marino dal 15 di ottobre guarda io sinceramente credo che invece l'Unione Europea su spinta tedesca probabilmente saranno costretti a approvare poi lo Sputnik anche perché la Germania aveva prenotato più di 10 milioni di dosi quindi sarà sotto spinta tedesca che noi forse riusciremo ad avere la possibilità del vaccino russo è sempre tutto sotto spinta tedesca perché ricordiamo che sotto spinta tedesca hanno completato anche l'ultimo tubo del Nord Stream 2 che nonostante la UE e il Parlamento avessero votato per fermare l'operazione i tedeschi hanno detto come si dice Scheisse il tedesco e sono andati avanti hanno detto ma chi se ne frega di quello che votate voi siamo noi l'Europa si l'Europsemo diceva una volta adesso si guarda ben ben dal dirlo visto che parlano tutti in tedesco praticamente anzi la Francia si sta posizionando forse su una posizione di exit anche lì lo vediamo con queste operazioni che intraprende altrove è molto indipendente la politica estera francese si muove in maniera molto indipendente dubito molto che accettino l'operazione l'idea di unificare la force de frappe francese e regalarla alla Germania ma anche soltanto prestarla all'Italia per un anno te l'immagini devono fare una porta aeree nucleare nuova devono fare una classe di sottomarini nucleari nuovi e non credo proprio che abbiano voglia di regalarli alla Germania la Germania ha già fatto fare le porta aeree a noi le spese nostre poi le useranno loro perché l'Italia accorrerà subito a formare l'esercito europeo immediatamente metteremo a disposizione tutto quello che abbiamo pagato noi a disposizione della Germania va bene andiamo oltre e quindi torniamo con la mente alla Francia che causa colpi di Stato in Africa ci riporta molto negli anni 50-60 questa cosa qua allora passiamo a parlare un attimo e velocemente anche adesso delle esercitazioni sfera russa quindi andiamo nella sfera russa e vediamo subito che c'è stato l'accordo firmato tra la Bielorussia e la Russia a Mosca Lukashenko ha incontrato il presidente Putin e hanno firmato sorgnone come al solito nelle dichiarazioni in conferenza stampa Lukashenko che ha glissato un po' su alcune pressioni per affermare di voler andare entro breve oltre questi accordi 28 punti comunque sono stati firmati e che rappresentano un importantissimo passo avanti nell'unificazione delle politiche macroeconomiche prima di tutto e cioè lo scoglio fondamentale era avevamo già analizzato questa cosa in altri dettagli la differenza economica che c'è tra l'organizzazione in Russia liberistica neoliberista anzi ordo liberista sotto molti punti di vista e quindi incompatibile con l'economia socialista e quindi statale che c'è in Bielorussia quindi hanno risolto questa incompatibilità Stefano non so i termini in cui intendano aver risolto questa situazione ma magari hanno trovato un meccanismo che riesce a mantenere una falsa indipendenza non ho avuto accesso a questi dati non li ho trovati cercavo il contenuto proprio del particolare ma non li ho trovati ma è fatto apposta proprio per mantenere questa suspense e interessare i partner occidentali così come li chiamiamo esatto però c'è l'integrazione militare che va avanti velocemente tant'è che ZAPAD 2021 è fondamentalmente incentrata tra l'altro con la partecipazione di India Kazakistan Armenia addirittura altri paesi ma l'India accidenti l'India partecipa alla ZAPAD 2021 l'India che gli Stati Uniti volevano portare dalla loro parte è accidenti non è cosa particolare esatto e hanno tra l'altro delle gare d'appalto attualmente in corso per rinnovare e sostituire parte della flotta aerea quindi sono in corso diversi cacciarussi con questo fatto sta che ci sono 200.000 uomini che si muovono per queste esercitazioni 700 circa mille mezzi terrestri più un'ottantina di navi che sono anche mezzi anfibi e via dicendo elicotteri caccia si muove di tutto e dal Baltico verso l'entroterra bielorusso ecco faccio mostrare le mappe che mi hai dato esattamente viene simulato l'attacco da parte di una fantomatica repubblica artica che invade il territorio della Bielorussia passando da alcune sue propaggini che sono diciamo bagnate dal Baltico assomigliano alla Svezia sì e non si riesce a identificare bene a quali repubbliche del Baltico faccia riferimento questo tipo di esercitazione e comunque il compito delle forze armate bielorusse impegnate con 20.000 uomini mi sembra in questo caso è far fronte e bloccare l'avanzata delle truppe nemiche in attesa che arrivino i rifornimenti resisterete finché non vi sostituiranno come abbiamo detto durante il D-Day in attesa dei rinforzi che arrivino dalla federazione russa quindi l'armata dell'Ovest il gruppo forze gruppo della difesa dell'Ovest che mette in piedi una macchina bellica tale da contrattaccare un contrattacco che si presume poi si fermi sulle sponde di Lisbona a Porto sì esatto e che quindi raggiunga il Portogallo questo è un contrattacco continuo fatto sta che stanno andando molto bene sono andate molto bene abbiamo tra l'altro avuto la possibilità di mostrare alcune lanci ad esempio del calibre via dicendo che può essere armato sia contestata convenzionale che atomica contemporaneamente si sono chiuse lo stesso giorno in cui iniziavano il 10 di settembre le esercitazioni Zapat 2021 le esercitazioni confine 2021 nelle repubbliche confinanti con l'Afghanistan Uzbekistan Turkmenistan e Tajikistan quelli hanno visto impegnati molte forze speciali alcuni gruppi di forze speciali del gruppo centrale delle forze armate russe che hanno collaborato con le unità per la salvaguarda del confine non hanno portato un numero di mezzi tali da confrontarsi con Zapat 2021 però hanno portato approvato e innalzato l'attività operativa delle forze armate soprattutto del Tajikistan dell'Uzbekistan e del Turkmenistan che hanno subito ordinato un'integrazione di mezzi moderni dalle forniture dell'esercito russo io questo chiaramente questo dispositivo Stefano lo vedo entrare in azione semplicemente perché appunto a partire dal ritiro dall'Afghanistan c'è la paura che i vari Dostum comincino a inventarsi a destabilizzare esattamente loro non vogliono assolutamente che questo accada se Dostum muoverà un dito contro l'Afghanistan si prenderà le legnate direttamente dalla Russia e dall'Uzbekistan lo sa benissimo anche lui poi sono ospiti punto e basta esattamente esattamente anche se lui è di origine uzbeca bisogna dirla tutta e quindi avrà in questi anni corrotto fino al midollo molti funzionari dello Stato non lo toccheranno ma lui sa anche altrettanto bene che se adesso la Russia ha le basi lì ai tempi c'erano le basi americane quando venne fatto l'intervento in Afghanistan poi gli Stati Uniti avevano le basi in Afghanistan hanno chiuso quelli in Uzbekistan e ce le hanno aperte i russi però ecco adesso hanno le basi lì e quindi il governo un po' risponde anche a loro e comunque è stato importante fare queste esercitazioni immancabilmente Stoltenberg ha chiesto spiegazioni ai russi sul numero esatto di forze che sono impiegate nell'operazione ZAPAD 2021 perché gli hanno comunicato che ci sono 8000 soldati in tutto e quindi loro hanno detto c'è un certo una disparità non capiamo disparità tra quello che avete dichiarato e quello che vediamo invece all'opera probabilmente dai satelliti vedono 10 volte il numero e sono preoccupati esatto anche 20 volte e quindi li hanno un po' perculati comunque sia è andato bene sta procedendo molto molto sono già concluse sono in corso sono in corso stanno provando varie cose e sta funzionando tutto a meraviglia molto bene i polacchi hanno dato il via alla loro controesercitazione che ha visto l'impiego delle cifre che fanno girare la testa 6.000 soldati attenzione hanno messo in piedi 6.000 soldati fa ridere perché effettivamente alla luce dei numeri che i russi hanno dato alla Nato non sono comunque abbastanza no no neanche se fossero quelli neanche se fossero addirittura in superiorità numerica basterebbero affermare se qui sono della qualità degli ucraini che non riescono a sistemare i loro ribelli se li vogliamo chiamare così sono della stessa qualità gli ucraini continuano a rifornirsi di armi di sistemi d'arma nuovi e poi però in realtà non sappiamo quanti siano i reparti che arrivano dall'ovest del paese sono sicuramente dei neonazisti e quindi sono degli esaltati assassini e loro hanno sempre combattuto e combatteranno in maniera spietata non hanno mai avuto problemi anche uccidendo anche colpendo i civili e via dicendo e sono riforniti ma tutto il resto il grosso dell'esercito penso che non abbia assolutamente voglia di combattere contro la Russia e pertanto in caso di conflitto abbandonerebbero le armi come è successo poi per molti reparti è molto interessante vedere questa situazione perché effettivamente quella spinta incredibile che si aspettavano di ottenere di riuscire a continuare a spingere 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 beh questi neonazisti oggi non ce l'hanno più esaurita esattamente perché sono delle formazioni veramente che ci riportano a un passato che pensavamo di aver dimenticato ma come dice giustamente il ministro Lavrov la seconda guerra mondiale ha portato un vaccino contro il nazismo in molti paesi europei non tutti purtroppo la copertura di questo vaccino si sta esaurendo come in alcuni paesi come ad esempio in Ucraina ecco e gli anticorpi stanno scomparendo quindi purtroppo a volte ritornano in questo caso stanno ritornando quindi il protocollo firmato da uno sviluppo e una spinta ulteriore all'unificazione allo Stato Unito tra Russia e Bielorussia dal punto di vista militare dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista delle forniture energetiche in vista di un mercato unico dell'energia tra Russia e Bielorussia hanno fissato il prezzo del metano e il prezzo attuale di metano sul mercato è 700 dollari per mille metri cubi la Bielorussia di Lukashenko lo pagherà 128 guarda il sorriso nella foto che mi hai mandato di Lukashenko e beh lui è un gatto è un gattone che ha una cosa ha delle belle carte anche apparentemente sì sì ma perché è bravo usarle è bravo usarle mi sono anche informato i missili come i Toshka e roba del genere che i russi usano possono essere sono tutti aggiornati ma possono essere trasportati soltanto con quegli 8x8 12x12 che sono fatti da Lukashenko sì e l'industria l'industria bielorussa è rimasta integra come nell'epoca sovietica fanno dai televisori alle radio ai visori notturni ai cannocchiali non c'è stata la liberalizzazione folle occidentale assolutamente è rimasto tutto nelle mani dello Stato ed è un forte e infatti c'è la piena occupazione infatti è uno dei paesi che è stato tentato il destabilizzamento nei mesi passati quindi sì addirittura negli anni passati sì sì alla fine degli anni 90 sembrava che le rivoluzioni dovessero concentrarsi tutte in Bielorussia perché Lukashenko era indicato come era la bestia nera di tutti gli attivisti delle ONG sorosiane poi si concentrarono sulla Timoshenko e poi con il golpe di Maidan e quindi avevano la rivoluzione arancione anche con quell'altro sì prima Timoshenko ah c'era un suo collaboratore che era stato avvelenato no? un altro ti ricordi che gli era stato avvelenato il viso era il marito della Timoshenko era il marito della Timoshenko non credo credo che sì andremo andremo ad informarci su questa cosa qui vai a controllare mentre ti parlo poi dell'11 di settembre facciamolo così finiamo tutto abbiamo visto come e veniamo appunto terminata la sfera russa che mi sembra che non ci sia nient'altro da dire stavo facendo un attimo mente locale abbiamo detto tutto Vittorio Yushchenko Yushchenko ok Yushchenko ah beh sì forniranno probabilmente altri due reggimenti di S-400 alla Turchia e probabilmente poi anche all'Arabia Saudita vediamo un attimo comunque sia stanno andando bene le cose sta concludendo l'accordo per la base nel Mar Rosso in Sudan a Port Sudan stanno stabilendo un accordo per cinque anni e poi se tutto va bene lo rinnoveranno per altri venticinque però darà modo intanto di costruire la struttura di ampliarla e di mettere i piedi sul terreno del Sudan e poi scalzarli diventa difficile volevo ricordare alcune cose dell'11 di settembre innanzitutto si è parlato tanto in questi giorni di quello che è stato l'Afghanistan della guerra che scoppiò in seguito all'11 di settembre e volevo ricordare che non è stato tanto l'11 di settembre a causare quello che ne ha seguito quanto le scelte che il governo americano decise di prendere a seguito dell'attentato e cioè la maniera che scelse di rispondere a questo evento quindi non a un attacco io sto parlando di un evento non di un attacco e perché è questo io non voglio entrare nel merito di tra virgolette complottista di tutti quelli che si sono concentrati sul sul modo in cui è stato portato avanti questo evento sul modo in cui è stato concepito sul modo in cui è stato concluso diciamo nei fatti quanto sul sul discorso che perché ha avuto luogo questo evento e cioè su dove poggino gli errori intorno ai quali si è costruito tutto questo castello che noi abbiamo visto oggi compreso il ritiro e la sconfitta dell'Afghanistan e partiamo per trovare le radici alla base quindi da dove nasce tutto il problema che ha portato poi ad avere l'11 di settembre la guerra in Afghanistan l'occupazione dell'Iraq e tutte le guerre che ne sono seguite trovano tutta la genesi nel tentativo della CIA di iniziare la destabilizzazione dell'Afghanistan come dicevamo prima a inizio quando dicevamo che inizia da 79 quindi quando si dice che gli Stati Uniti hanno causato e organizzato l'attentato delle torri gemelle non si sbaglia ma non perché non fossero aerei o fossero degli esplosivi o il laser o il passaporto sia sopravvissuto la termite qualunque cosa è indifferente il modo si parta dal presupposto che le torri sono venute giù hai ragione si parla di conseguenze il modo in cui sono venute giù è indifferente si perde del tempo in discussioni inutili quando tu hai già tutto lì per dichiarazioni loro hanno organizzato i terroristi e gli estremisti islamici in Afghanistan hanno creato Al-Qaeda avevano Bin Laden a libro paga hanno scelto loro di fare quelle operazioni perché avevano in idea di compiere un'altra azione contro l'Iran un intervento da due lati in funzione anti-Iran che cercarono di destabilizzare in tutti i modi a partire dall'occupazione dell'Iraq iniziarono i tentativi di rivoluzione primavera eccetera anche in Iran e loro dall'Afghanistan e dall'Iraq avrebbero dovuto invadere per scopi umanitari per riportare la pace e aiutare la popolazione a liberarsi Teheran Teheran era il loro obiettivo in quel modo avrebbero avuto sotto controllo l'Arabia il Kuwait l'Iraq l'Iran e gli Emirati ovvero tutte le risorse del petrolio del Medio Oriente e avrebbero potuto semplicemente invadere il Venezuela per avere il controllo di tre quarti delle riserve del mondo abbassare i prezzi del petrolio e affondare totalmente l'economia russa questo gli andò male perché perché l'Iran non cedette resistette perché aveva l'appoggio della popolazione alle rivoluzioni e via dicendo l'Afghanistan è quello che e poi nel contempo attraverso le milizie sciite e la nascita sì allora del terrorismo sunnita in Iraq creò l'insurrezione del paese sia in Afghanistan con i talebani che in Iraq con le milizie sunnite sciite Moqtad al-Sadr e via dicendo che durarono dieci anni e quella e quella afghana è durata fino alla liberazione del paese loro hanno speso più di 8 mila miliardi di dollari solamente da cifre ufficiali di bilancio attenzione non parliamo di quei budget neri che vengono utilizzati per finanziare operazioni ombra esattamente ma quelle classiche manovre che del tipo che tu costruisci una porta aerei una porta aerei porta elicotteri fingendo che sia un mezzo della protezione civile non sto inventando nulla questa qui è stata fatta in Italia con la Trieste o la Giulio Cesare come cavolo si chiama non mi ricordo più nasce come porta elicotteri per la protezione civile è stata cantierizzata così la legge navale prevedeva quello ed ecco qui le spese nascoste che probabilmente saranno da aggiungere ma sono difficilmente calcolabili comunque questi 8 mila miliardi di dollari se spesi nella ricerca scientifica nella ricerca militare nel rinnovo dei mezzi e della tecnologia a disposizione degli Stati Uniti avrebbe garantito loro di mantenere il controllo del leadership nel mondo cosa che invece hanno perso in conseguenza delle scelte che hanno fatto loro che facevano capo a un think tank molto preciso ce lo ricordiamo era Brzezinski no? no for a new american century non era Brzezinski che lavorava in questa in questa Brzezinski è un consulente polacco americano sì di origine polacca che è consulente di tutte le amministrazioni recenti degli Stati Uniti ed è ferocemente antirusso e ha traviato tutta la politica estera degli Stati Uniti in funzione russofoba era perché fortunatamente esatto nell'anno in cui nasce il for new american century il think tank che vedeva dieci componenti dell'amministrazione Bush presenti nel governo no? erano facevano parte di quel think tank tre in particolar modo erano ai vertici del governo ed erano Dick Cheney vice presidente Donald Ransfield potentissimo segretario della difesa e il suo vice Paul Wolfowitz famoso per pettinarsi come le lumache con la saliva sul pettine no? guardate che capelli che ha c'è la foto era una cosa veramente c'era era anche presente questo video nel film di Michael Moore Fahrenheit 9-11 vi consiglio di rivederlo perché è sempre divertente le scelte che hanno fatto prevedevano appunto che gli Stati Uniti erano tutte basate su questo piano il piano for a new american century che prevedeva l'occupazione da parte degli Stati Uniti di tutte le risorse energetiche petrolifere del mondo almeno quelle in loro disponibilità al momento è chiaramente stato un fallimento gigantesco sì perché nel 97 quando loro l'hanno ideato la Russia che cos'era? era un cumulo di rottami e di rovine nelle mani di pochi oligarchi legati a Yeltsin chi avrebbe mai immaginato che in 20 anni Putin l'avrebbe riportata ad essere una potenza mondiale teniamo presente che la Russia ha comunque dei limiti nell'industrializzazione e nell'economia del paese che purtroppo non gli permetteranno di mantenere a lungo la posizione che lui ha perché non è in grado di sostenere un livello di ricerche e di spese di una nuova campagna di armamenti che vedrà come protagonisti la Cina da un lato e gli Stati Uniti dall'altra a rincorrere stavolta però la Cina perché la Cina non copia più ormai avanti su molti campi sperimenta le stesse sperimenta cose nuove innovative dai computer quantistici dell'intelligenza artificiale ai nuovi sistemi di laser e via dicendo vorrei contenerti Stefano perché siamo arrivati a un'ora e 45 ma tanto abbiamo finito abbiamo finito abbiamo finito chiediamo scusa guardatevelo in più puntate se vi annoiate quando li vediamo abbiamo parlato anche tra l'altro abbastanza veloci non è che ci siamo siamo stati lenti è che avevamo la quantità di argomenti è un mese che non ci sentiamo è chiaro quando parli di uno scenario asiatico Africa sfera russa e poi arrivi a parlare di un ragionamento sull'11 di settembre qui c'è già da fare solo una puntata l'accento la dedicheremo magari a un ricordo e un riesame di tutto quello che ha portato all'11 di settembre beh chiedeteci diteci nei commenti la volete da mezz'ora o da due ore la prossima si facciamo la sfida come sui social qual è il tema che volete per la puntata numero 100 è interessante è interessante quindi chi chi vuole suggerirci qualcosa non esiti accettiamo suggerimenti e sfide forza avanti adesso veloci Stefano io ti auguro il meglio ci sentiamo spero prima di un mese questa volta sì sì sicuro io sono qua a casa ancora fino a fine settimana perché purtroppo ho il piede tutto fasciato che è successo? guarda facevo i lavori in giardino e mi è caduto un ceppo da 30 kg non so che cosa sul collo del piede per fortuna ero sul terreno col piede nudo io invece mi sono fatto mordere da una zecca pensa che culo è affondato è affondato è affondato dentro al terreno e non si è rotto miracolosamente però subito era gonfiato qualche danno ce l'hai sì perché poi ho messo subito una quantità di ghiaccio fino all'indomani e l'indomani non mi faceva più male poi dopo 3-4 giorni hai iniziato di nuovo a gonfiare diventare livido e via dicendo e boh sembra che noi rischiamo di più con gli incidenti domestici che al lavoro veramente un abbraccio Stefano un saluto a tutti e aspettiamo i suggerimenti e le sfide arrivederci ciao Sascha grazie Stefano alla prossima grazie a tutti